ciao bellezze bentornate allora iniziamo direttamente con il tutorial oggi allora uso questo illuminante di chicco che vado ad applicare sotto le mie sovrasciglia come potete vedere è giusto per dare un pochino di luce e poi uso questa terra della astra che vado a mettere sopra la mia piega dell'occhio allora mettendolo cerco pure di sfumare allo stesso tempo poi passo alla mia palette della make up revolution uso questi due colori abbastanza scuri che vado a mettere direttamente sulla piega dell'occhio poi vado a sfumare il risultato e poi passiamo all'altro colore che è questo grigio della essence allora lo vado ad applicare diciamo sempre dentro la piega dell'occhio però rimango bene verso l'esterno e un'altra volta vado a sfumare il risultato però come potete vedere sfumo verso l'alto non vado verso il basso perchè non vorrei toccare la mia palpebra mobile anche perchè adesso vado ad applicare questo jumbo milk della NYX sulla palpebra mobile adesso uso un pennello piccolo abbastanza preciso per distribuire bene il prodotto su tutta la mia palpebra anche per sfumare poi riprendo l'illuminante della Kiko che vado ad applicare sulla jumbo pencil di prima e ancora un'altra volta riprendo il mio grigio della essence e vado a ridefinire la mia piega dell'occhio con il colore e poi ovviamente prendo un pochino di terra di prima anche della astra che vado a rimettere dove l'avevo messo prima cioè sopra la piega dell'occhio e cerco di sfumare il tutto benissimo ok adesso passo all'eyeliner uso questa penna eyeliner della essence allora la uso veramente solo per disegnare come vorrei la mia linea di eyeliner perchè dopo vado a riempire il vuoto con un altro eyeliner della NYX come potete vedere è molto più liquido ed è molto più nero della penna della essence poi uso una macita nera voi potete usare qualsiasi macita nera io uso questa della astra che vado a mettere così all'interno dell'occhio dopodiché riprendo la mia palette makeup revolution e uso questi due colori di prima questi due colori che ho usato prima sotto le sciglia inferiore dell'occhio e come sempre vado a sfumare il risultato prima di mettermi delle sciglia finte poi passiamo al mascara questo è il mascara della NYX che vado a mettere solamente sulle mie sciglia inferiore adesso uso questo colore della palette HM come blush anche se è veramente un libretto poi uso marilu come illuminante ok passiamo alle labbra uso questa macita della Kikon per disegnare le mie labbra poi uso questo gloss matt della Hele Girl diciamo che la mattita non mi serviva veramente era solamente per non sbavare con il gloss volevo essere abbastanza precisa poi uso un altro gloss sempre della Hele Girl con un viola molto più chiaro che metto al centro delle mie labbra e poi per sposare bene i colori vado ad usare un pennello della Real Techniques poi per fissare il trucco uso questo Fix Plus di MAC abbiamo terminato vado ad occuparmi dei miei capelli poi torno ok ragazze questo è il risultato finale come lo sapete io mi sono divertita un mondo ma veramente a fare questo look per voi ed è abbastanza semplice da realizzare allora se vi è piaciuto il video non dimenticate di mettermi un piccolo mi piace e poi noi ci vediamo la prossima volta alla prossima